I temi ambientali sono al centro della campagna elettorale per le regionali in Abruzzo. Nella sede elettorale di Giorgio Giannella stamattina avete parlato in particolare di acqua, di sicurezza dell'acqua. Sì, di sicurezza dell'acqua e di tutela del bacino idrico del Gran Sasso, che è il più grande del centro Italia, quindi è una cosa molto importante e qui abbiamo annunciato per quanto ci riguarda per il nuovo Consiglio regionale la costituzione di una commissione speciale perché la questione deve essere seguita in modo attento per proseguire il lavoro anche dell'osservatorio e a livello parlamentare invece noi stiamo lavorando su un disegno di legge per la tutela e quindi la messa in sicurezza del bacino idrico del Gran Sasso. È una risorsa fondamentale, importantissima. Tutto quello che si è fatto in questi anni purtroppo ha anche molte risorse spese male e non è una risorsa che alla fine viene completamente dispersa e non è utile e importante per la popolazione. La risorsa acqua è una delle questioni fondamentali nella nostra regione ma anche ovviamente nel nostro paese. Noi siamo stati tra quelli che promossero tra l'altro il referendum, quello sull'acqua pubblica, ma qui c'è un problema proprio non solo di gestione ma anche innanzitutto di tutela e di messa in sicurezza. La problematica dell'acqua in Abruzzo e anche al centro dei lavori del Parlamento è una vicenda che non riguarda solo la regione Abruzzo, vero? No, assolutamente no. Ovviamente io peraltro sono abruzzese della parte della Marsica quindi abbiamo altri problemi anche lì ma sono problemi seri molto legati all'acqua quindi per la regione Abruzzo è una questione prioritaria. La campagna elettorale qui in Abruzzo lo sto girando abbastanza. Certo è una campagna elettorale complicata, difficile, vista anche la stagione, però devo dire molto appassionante. Noi siamo stati molto convinti per sostenere la candidatura di Legnini e soprattutto vedo che ci sta aggregando molte persone quindi ci sono molte aspettative su questa campagna elettorale e quindi ovviamente speriamo che possa avere una conclusione perché l'Abruzzo merita finalmente un governo adeguato a dare le risposte ai tanti problemi che questa regione ha perché ha tante opportunità e quindi su questo bisognerebbe lavorare.